bentornati eccomi qui video pranzo al ristorante barattia di one piece barattia one piece ecco il piatto che ho preso ho già fatto dei cambiamenti questo era in centro spostato qualcosa bianca non so cosa sia l'ho assaggiato però è fredda mentre il resto del piatto è caldo è un biscotto quello adesso c'è della carne del riso questa cosa bianca di contorno che non so cosa sia questo che non so cosa sia e sta a fare qua sembra cioccolato dice il mio amico adesso l'assaggio e vediamo vediamo come questo buono è un biscotto però non è tanto dolce cioè è dolce ma è poco dolce è un biscotto quello è un biscottino con salsa di soglia è buono questo è quanto pare è uno zucchino mi stava cadendo con già la salsa di soglia sopra è buono l'unica cosa che non ci convince è questo contorno bianco tra l'altro no io questa cosa bianca non la voglio l'ho assaggiata prima non sa di niente sono fettine di carne adesso la taglio però devo mettere giù la fotocamera se no non riesco a tagliarla scusate scusate allora mi inquadro il bicchiere eccolo qua allora ho tagliato vediamo queste carne di pollo non credo che sia di pollo no che deve essere di maiale c'è troppo grasso vicino dici si è carne di maiale tagliata a fettine molte sottile da noi non la tagliano così si anche secondo me è carne di maiale però è buono è grasso si perché c'è del grasso attorno è vero il pollo non ha sto grasso ma loro piacciono le carni morbide e quindi prendono quella di maniale sta cremina qua io eviterei di mangiarla perché è come se fosse una specie di bianco d'uovo sbattuto è molto allora la carne sembra bianco d'uovo crudo si non mi piace anche a me l'assaggiata prima e rimane sul piatto la carne però è veramente buona è una consistenza molto particolare poi come fai a tagliare la carne sul riso? non lo devono spiegare no? non è forte scusate sotto la carne c'è il riso ora si vede assaggio il riso così vi dico com'è il riso l'hanno fatto scotto come quello che prendono loro con le bacchette anche se lo devi prendere con questo e potevano farlo almeno scotto c'è tanta soia forse già messo buono il riso è buono devo di nuovo appoggiare la fotocamera perché mi devo tagliare la carne scusate arrivo eh non scappate la taglio tutta così sto arrivando sto arrivando ho quasi finito eccomi qua eccomi qua fatemi vedere la batteria si ce n'è ancora questo è il bellissimo ristorante malattie di One Piece aodaiba allora reso conto la carne è buona il riso è buono questa cosa bianca attorno non ci convince l'abbiamo lasciata lì basta per come cazzo non fa vabbè non importa perché comunque chi resta è mangiato è buono ha provato anche qua l'olore è come se fosse 17 euro però One Piece restaurant barattia paghiamo 3.160 yen in due l'acqua è gratis e il coperto non si paga tutte le altre rivande vengono 700 yen che è già un po' riempito bene adesso faccio ancora un paio di minuti poi vi saluto e comunque questo è un posto da visitar meno una volta chi viene qua si trova facilmente e dietro l'acqua city il mio amico ha già fatto fuori il piatto io sono ancora all'inizio va bene vi ho fatto vedere si raffredda no rimane caldo no no se non lo mangi si raffredda adesso lo mangio ora vi saluto perché se no mi si raffredda il piatto che è molto buono dal barattia restaurant di One Piece ci vediamo con nuovi video da Tokyo ciao